Ciao, noi siamo di Yubal. Siamo bandi, ok? Siamo chiamati Yubal. Immagino che tu già ci conosca. Se conti che al mondo siamo 7 miliardi e mezzo di persone circa, chi è che ci conosce? Non è la quantità delle persone che conta, è la qualità. Sì, vabbè. Yubal è un progetto dalle suonorità accattivanti. E' musica che piace, che piace evidentemente a tutti. E possiamo dire che sia musica pop. Pop. Funky. Qual è la roba che vende di più in sto periodo? L'hip hop, l'indie? Siamo un gruppo di folk. Fuck, man, we're not folk band, we're rock band. Direi rock, di lotta e di governo. C'è una buona e una cattiva notizia. La buona è che stiamo per uscire con un disco che è una bomba. We just finished recording the best album of the year. Che poi alla fine uno non ci pensa, ma sono un sacco di spese. Cioè, preproduzione, registrazione, mixaggio, mastering. Abbiamo girato anche un videoclip in full HD. Anzi no, in 4K. E girare il video, e montare il video, e fare la postproduzione del video. Il disco degli Ubal si intitola Ubal. Do you understand? Il classico album eponimo. Aggiungi il progetto grafico, la stampa dei dischi. Merda. Lo presenteremo con una piccola serie di concerti, un piccolo tour che avrà luogo quest'inverno. Winter is coming. E la spedizione, e i bollini siae. E quale sarebbe la cattiva notizia? La cattiva notizia è che questo sarà l'ultimo disco degli Ubal, e di conseguenza l'ultimo tour. It's gonna be a lost tour. You better be there. E la benzina per le trasferte, il service audio, le luci. No, anche le cose belle finiscono. Non si può sbagliare quando si fanno delle cose belle. Per realizzare quest'ultimo sogno abbiamo bisogno di te. We have a dream. We need you. Si parte da un'offerta di 5 euro e si raddoppia ogni volta. 5, 10, 20, fino a 20 sei un sostenitore. Supposa, con 40, 80 e 160 euro sei promosso a livello spacciatore. Pusha. Noi ti mandiamo pacchi di dischi. Tu li ricevi, li prendi, li regali. Se vuoi in culture vendere, ci percorre un poco di cresta. Se hai o gestisci un locale e doni 320 euro o 640 persino, diventi mecenate. Messines. Insomma, non sei tu che vai al concerto, è il concerto che viene da te. Aiutaci a realizzare tutto questo. Give us the money, man. Ti prego.